Sì ragazzi, oggi vi trasmetto sempre da Filippo89 e da qui vedete il mio profilo dell'Arena 2 perché l'ho riniziato e quindi da due giorni sono arrivati in Arena 2, quasi in Arena 3 di 200 trofei. Quindi c'è, ora facciamo delle battaglie con questo da qui e ora vediamo come va. Ora, dai, un livello 5 sarà difficile ma proviamo a vincere. Dai. Ora metto il Goblin e il Sghera gigante qui, così provo a mettere anche il Sghera gigante. Ora vediamo. Ora mettiamo la Valkyria. No, lui ci fa fuori la torre. Porca bacca. Noi intanto mettiamo il Moschettiere qui che attacca la Valkyria. Noi dopo mettiamo la Strega. Così almeno proviamo a far buttare. Ecco, perfetto, così lui ci lascia un po' di Elisir e possiamo mettere il Gigante. Ci fa poco danno. E lo mettiamo dietro. Ok, perfetto. Vai, sì. Oh, e abbiamo fatto fuori la torre. Poi gli mettiamo i Goblin. Tentiamo subito di andare a fare fuori la prima torre. Però, dopo, andiamo a fargli fuori l'altra torre, dall'altra parte. Così per fargli un po' paura. Allora, gli mettiamo i Goblin e il Sghera gigante qui. Poi andiamo all'attacco dall'altra parte. E poi, cioè, andiamo all'attacco della torre principale. E quindi noi facciamo moschettiere. No. Dai, Valkyria. Dai, sì, ci siamo protetti. Allora mettiamo il Gigante qui. Beh, dai. Lui c'è la Valkyria, vediamo. Ora noi gli mettiamo la seconda strega. No, 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 no. Beh. C'è che abbiamo fatto fuori il Principe. Ok, dai. Gli mettiamo la strega qui. Gli gommi lanceri qui. No, 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 no. Sì. Dai abbiamo vinto. Abbiamo vinto 2-1. Sì, ragazzi, sì. Dai. Facciamo altre tre battaglie e andiamo a vedere come finisce. Dai. Allora, N-B-K. Va bene, dai. Un livello 4 è buono. Dai, mettiamo subito. Ok, lui mette l'orda. E facciamo così. Ok. Così. Dai. Beh, c'è il mini pecca per proteggere la strega. Mettiamo il gigante lì davanti. Ok, perfetto. Dai. Dai che possiamo andargli fuori fuori una torre. Andiamo. Dai. Dai che gli facciamo fuori la torre. Vai. Così, così, così. Ci sta, ci sta. Con questo esercitino andiamo a fargli fuori la torre. Principale. Proviamo. Ma, sì, che forse ci riusciamo. Ci riusciamo e gli abbiamo fatto fuori la torre. Vai. Sì, è la nostra seconda partita vinta. Poi. Vedi, ora la seconda partita di fila. Dai, proviamo. Un altro livello 5. E vai dietro, Luca. Poi. Dai, vediamo. Forse. Vacca la strega. Beh, noi abbiamo la sfera infuocata. Dai. Pum. Sì. Rimane solo il cucciolo di drago ma non fa tanto. Andiamo gli goblin in lanciare così per colpire un po'. Dai. Dai. Dai, vediamo. Mettiamogli la strega. Vai che con il moschettiere che infligge... No, 151. Beh, dai. Li abbiamo fatto fuori una torre. Perfetto, andiamo. Andiamo con sto deck. Dai, ragazzi. Sì. No, no. No, 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 no. Il mini pecca. Il 3 mi ha fatto fuori la strega. Però, dai. Riproviamo. Mettiamo il moschettiere al 2. Qui. I goblin qui. Così facciamo fuori il drago. Perfetto. Gli sgherri qui alla mongolfiera. Perfetto. Dai che la fa fuori. Dai che la fanno fuori. Pum. Vai. Sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Dai. Allora, vediamo. Gli mettiamo la sfera infuocata. Ma mettiamogli la strega. No, e qui al gigante gli mettiamo i goblin. Perfetto. Poi qui gli mettiamo i moschettiere. Però non è che va tanto. Poi gli mettiamo il gigante qui davanti. Però gli mettiamo i goblin lanceri da questa parte qui. Gli sgherri dall'altra qui lì davanti. Così forse possiamo fare fuori la torre. Gli mettiamo l'altra strega. Dai. Dai. Sì, forse. Forse, 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 forse. Pum. No. Sgherri. Strega. Dai. Caricati. Dai. E abbiamo vinto. Buon mando un bel ops. Dai. Sì. E la nostra terza partita di fila l'abbiamo vinta. Dai. Vai così. Vi consiglio molto sto deck, eh. Ovviamente. Dai. Ora proviamo l'ultima partita e dopo vi saluto. Allora, vediamo. Mettiamo, aspettiamo lui. Ok. Lui è stato in arena 2, a quanto si vede. Arena 3, scusa. Infatti, c'ho la Firewall, ma sono riuscito un po' a contrastarlo. Lui ha anche la lapida, ma non ce ne frega niente, perché noi usiamo la sfera infuocata. Che l'abbiamo fatta fuori. Gli mettiamo anche la strega, così. Oh, lui è un oro, usi il deck spawner, eh. La mettiamo così. Tanto, aspetta che ti inizia a far fuori la torre. Dai, 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 muoviti, muoviti. Fagli fuori la torre. Sì. Dai. Mettiamogli la Valkyria qui. Fum, dai. Ma è perfetto, così gli mettiamo il gigante là. No, vacca, baia. No, 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 no. Il gigante ha rovinato tutto. Gigante, vabbè. Questa, però, se ci difendiamo bene, riusciamo a farlo fuori. No, mi sa di no. Sgherri. No, no, no. Non riusciamo, non riusciamo. Cioè, io ho la lapide, le caserme, ma c'è... Se le ho ma non le uso, è da vigliacchi usarlo, sto deck. È da vigliacchi. Ok, dai. No. Mettiamogli la Valkyria qui. Sì. Dai. Dai, ci sta, ci sta. Vai. L'abbiamo fatto fuori. Dai, dai. Sì, 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 sì. E li esili per due. Vai, vai, vai. Sì. Proviamo a mettere il gigante da questa parte. E la strega... Anzi, mi sono rotta perché... Con sto deck qui c'è... Mettiamogli gli sgherri qui. Noi, dobbiamo difenderci, dobbiamo difenderci, dobbiamo difenderci. Vabbè, la Valkyria, basta con sto deck qui. Mi hai rotto. Vaccabaia. Anche il cucciolo. Ma voglio quel paese, va. No, non l'ho colpito. No, 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 no. Mi sa che questa la perdiamo. La Valkyria qui in mezzo. Pam, vai. Dai, Valkyria. Dai, Valkyria. Non fare neanche attaccare il gigante. Neanche il gigante... Mi fa fuori la torre. E questa abbiamo perso. 3 a 1. Vabbè. Dai. Una partita però, dai. Ne abbiamo perso una. In 4 partite. Ne abbiamo fatte 1, 2, 3, 4. 4. Una ne abbiamo perso, dai. Ci sta. Ciao. Vi saluto. E arrivederci. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.